La Partenope Sound Organization vi invita alla cena spettacolo che si terrà il 14 febbraio alle ore 20 e 30 presso il ristorante Village Café in via 4 novembre 112 presso il villaggio Cavour a Settimo Milanese. Allieteranno la serata con le loro bellissime voci tanti artisti interpreti della canzone La Partenopea tra i quali la grande Elia D'Angelo presenterà la serata Pascal di Radio Stella Web Musica, allegria e buona cucina non mancate sponsor ufficiale della serata Radio Stella Web